Nel cinquantesimo anniversario dalla morte, la ricorrenza cadrà il prossimo 15 aprile e per un anno intero Napoli celebra Antonio De Curtis in arte totò, con una serie di iniziative tese a ricordare ed omaggiare il grande principe della risata. Questa mattina, nella storica aula magna dell'Università Federico II, si è tenuta la cerimonia di conferimento all'artista della laurea honoris causa alla memoria in discipline della musica e dello spettacolo. Fortemente voluta da Renzo Arbor e da sempre appassionato del grande attore napoletano e al quale è stata affidata la laudazio accademica, il riconoscimento ad Antonio De Curtis ha visto la partecipazione del ministro ai beni e alle attività culturali Dario Franceschini, del direttore dell'Ateneo Gaetano Manfredi e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Io sono veramente cresciuto a pane totò, la passione l'ho ereditata da mio padre, l'ho trasmessa alle mie figlie e la dimostrazione è che totò attraversa veramente tutte le generazioni e continuerà a attraversarle. Sono ricordi indimenticabili, anzi uno dei primi ricordi che conservo è il dolore da bambino quando il giorno della scomparsa di totò e qualche modo a quell'età pensavo non vedrò più i suoi film, invece ho continuato a vederli tutta la vita, continueranno a vederli per anni e anni, decenni gli italiani che lo hanno così amato e l'hanno ricompensato a furor di popolo di quella incomprensione che totò ha sofferto per non essere stato apprezzato dalla critica, dagli esperti come invece avrebbe dovuto essere apprezzato. Per questo sono qua ma sono qua soprattutto come ministro della cultura per ringraziare l'università Federico II, Renzo Arbore per aver avuto quest'idea, è davvero una cosa importante come sono importanti tutte le altre cose che si dovranno fare, questa mostra che si fa a Napoli, l'apertura su cui sta lavorando il comune del museo dedicato a totò, sono moltissime le cose che si devono fare e che si faranno. Il popolo aveva un compito più importante in quel popolo guerra, aveva il compito di consolarci, di consolare i miei nomi, di consolare tutti quelli che venivano, di consolare il figo e il popolo, di consolare quelli che venivano a vedere. Un uomo di cultura così polietrico, andava dalla poesia al cinema, al teatro, alla letteratura, alla narrazione, un vero artista, riceva anche se dopo morto la laurea onoristica, è una bella cosa. Dal paradiso si farebbe una risata, sicuramente, per come è totò. Poi questo è un anno particolare, la città lo sente molto, 50 anni dalla sua morte, io non vedo l'ora di inaugurare la mostra, la settimana prossima, la più grande mostra che ci sia mai stata su totò, fortemente voluta dalla famiglia. E poi sì, ne parlavo anche adesso col ministro, il museo di totò, che è l'altro obiettivo ormai a portata di mano, quindi credo tantissime altre cose che si vedranno quest'anno. Grande commozione in sala durante il ricordo della figura di totò e della consegna della pergamena alla nipote Elena De Curtis. Oggi viene eseguita un po' della gioia per lui, da vento secolo e da gratuito. Grazie.